A Martogna la famiglia cresce. A maggio, nell'area demaniale gestita dall'azienda Foreste di Trapani, sono nate due caprette e un poni. Si tratta di due fiocchi blu poni e capretta scura e uno rosa capretta bianca. L'allevamento, con i suoi recinti molto curati e ben tenuti dal personale del servizio territoriale regionale, rappresenta di fatto un piccolo parco alle pendici della montagna di Erice, con vista grande bellezza sul centro urbano della città. Una piccola oasi nella natura dove è possibile immergersi nel verde rimasto dopo l'incendio dello scorso anno, rogo che si è preso mezzo bosco. La parte alta, quella dove ci sono gli animali e il parco avventura, si è però salvata e in questi mesi gli addetti dell'azienda Foreste di Trapani hanno lavorato per mettere in sicurezza l'aria demaniale, tagliando gli alberi bruciati, pulendo tutto e ripristinando le staccionate ai ponticelli. E proprio in queste ore è tornato in funzione anche l'impianto di illuminazione. Da ieri sera si sono infatti riaccese le luci dopo che sono stati rimessi i fili bruciati e riparato il quadro elettrico. I lavori hanno anche interessato il canale per le acque, le tagliate e le cunette, oltre che tratti di sentieri e stradele sterrate. Insomma, dopo l'incendio del 5 maggio del 2022, si è fatto di tutto per riparare i danni a quello che è di fatto l'unico bosco a un tiro di schioppo dal centro urbano di Trapani, Casa Santa, nel versante della montagna di Elice che guarda verso il mare delle Isolegadi. Una zona ricca di sentieri da percorrere in meravigliose passeggiate nella natura risalendo verso il santuario di Sant'Anna e Castellazzo, potendo arrivare fino al centro storico di Elice sulla vetta del monte. Ma oltre per il trekking, questi itinerari sono frequentati anche dai ciclisti e Martogna rappresenta un po' l'inizio di questi percorsi che si snodono poi per tutta la montagna. L'area demaniare, grazie alla capacità di ripresa di matrenatura e dal lavoro svolto dal personale dell'azienda Foreste di Trapani, sembra rinata dalle sue ceneri. Certo, non c'è più mezzo bosco andato a fuoco l'anno scorso e ci sono ancora molti alberi bruciati che ricordano le ferite del 5 maggio del 2022. Il vuoto è tutto nella parte bassa, quello sopra la strada provinciale per Elice. Qui, per rivedere degli alberi, ci vorrà del tempo. Molte piante hanno ricacciato ed è evidente la ripresa del verde, ma per rifare un bosco ci vogliono molti anni, decenni. Nel frattempo bisognerà prendersi cura e difendere questo patrimonio ambientale che appartiene a tutti noi e principalmente ai nostri figli, comprese le piccole caprette e il poni venuti al mondo poche settimane fa, delle nascite che, assieme alle prime piantine che stanno germogliando, danno speranza.